Il profumo di Gesù Cristo È questo che si sparge nella casa, frutto dell'amore di Maria, che con questo gesto ci indica la centralità di Gesù Cristo e che il motore della fede è l'amore. Dal Vangelo secondo Giovanni Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania dove si trovava Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti e qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Marta e Maria sono sorelle di Lazzaro. Gesù aveva riportato in vita il loro fratello. Viene organizzato un pranzo per ringraziare Gesù di quanto ha fatto. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso. Ne cosparse i piedi di Gesù. Poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Un profumo molto costoso e usato in grande quantità. Maria compie un gesto d'amore verso Gesù. Lei stessa diventa portatrice del profumo di Cristo. Ma molti rimangono scandalizzati da questo gesto. Allora Giude Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? La critica di Giuda può essere persino condivisibile. È stato uno spreco? È lecito servire i poveri ma dimenticarsi di Cristo? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Veniamo a sapere qualcosa di nascosto. Giuda, avendo il cuore legato al denaro, non vede l'amore che Maria mette in quello che fa. Misura la vita mettendo il prezzo su ogni cosa che vede. Gesù allora disse Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Gesù è più importante dei poveri. Amarlo e onorarlo vale più di ogni cosa. Perché solo amandolo si è capaci di amare chi non è amabile. Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro. Perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Quanto sta avvenendo a Betania preoccupa i farisei e le autorità. In molti se ne vanno. Ma invece che fare autocritica, si pensa a eliminare l'alternativa. Giuda e i farisei non vedono il bene. Sono preoccupati del loro potere che viene meno. Donami oggi di vedere l'esempio di chi sa amare. Grazie a tutti. 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 Grazie per la visione!